Abbiamo perso un paio di piloti, abbiamo perso perché la differenza fra noi e loro era di due e tre, eravamo noi, venti e venticinque erano loro. Andavamo sui 9.000 metri che era l'aeroplano Caleggia perché non era la sua quota e da lì facevamo una picchiata, sempre noi giovani attaccati all'ala del comandante.